Appesa ad un filo, quello della speranza, non resta che quella e a quella non possono che aggrapparsi i gelesi. La città langue sotto una crisi senza precedenti e la politica, quella che potrebbe, anzi dovrebbe risolvere i problemi, nicchia colpevolmente. La politica con la P maiuscola, quella nazionale e quella regionale. Quella del PD, partito che comanda a Roma e a Palermo e che comandava a Gela fino a pochi mesi fa. Quel partito che gli attuali disastri di Gela ha creato quasi ad arte e che oggi tentenna persino ad intervenire prima che provare a risolverli. Roma, Palermo. Palermo, Roma. O se volete, Renzi, Crocetta, Crocetta, Renzi. Un palleggio di responsabilità insopportabile e dannoso che sta portando al collasso la città del Golfo. Quella che era la quinta città della Sicilia, diventata sesta con l'avvento del PD al governo cittadino e che sta scalando come una marcia del gambero la classifica al contrario. Una città sedotta e abbandonata che pur con tutte le contraddizioni di questo mondo, pur con tutti i limiti insiti nel DNA gelese, certo non meritava e non merita questo trattamento, questo maltrattamento per essere più precisi. E c'è chi ancora non capisce che non è con la contrapposizione politica che si aggrediscono i gravi problemi di Gela, ma solo con l'unione e la forza di volontà di venirne fuori assieme da questo nerissimo tunnel. Lo hanno chiesto persino i più danneggiati da questa crisi industriale gelese, ossia gli ex lavoratori dell'Indotto, un paio dei quali presenti ieri sera ad Agorà. Mi rivolgo alla classe politica che è qua in studio, anche la classe politica che non è in studio, a nome personale, a nome di tutti i lavoratori che in questo momento particolare che il territorio sta attraversando, di evitare tutte queste contrapposizioni, di non guardare nessun colore politico, di non guardare nulla e di sostenerci. Perché noi siamo con voi e voi dovete essere con noi. Quindi tutti dobbiamo fare squadra assieme per un unico obiettivo, lavoro. Ma dallo stesso studio di Agorà il messaggio politico che ne è venuto fuori non è stato dello stesso avviso, della serie Consiglio sprecato e fiato perso. Risolva i problemi di casa sua, che non li sa risolvere sindaco, si dimetta sindaco, si dimetta, dia dignità alla città, mandiamo un commissario e ci facciamo amministrare. Lei non è in grado di amministrare questa città sindaco, non è in grado di amministrare questa città, non ha capacità amministrativa, sindaco. Il rotocalco settimanale di Canale 10 ha ospitato un parterre ricco con il sindaco Domenico Messinese, il suo vice Simone Siciliano, i vertici sindacali locali Ignazio Giudice della CGL ed Emanuele Gallo della CISL e quindi il consigliere comunale indipendente Carmelo Casano ed il componente della direzione regionale del PD Giacomo Gulizzi ed ancora l'ingegner Fabrizio Lisciandra e come detto alcuni ex lavoratori dell'indotto nella fattispecie della ditta nuova X-Gamma. La trasmissione è stata aperta da una stupenda clip sulla storia di Gela raccontata dalla splendida canzone Nel cuore Gela del nostro editore Antonio Cavaterra. Una sorta di appello ad amare di più Gela perché solo amandola davvero tutti assieme la possiamo ancora salvare. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con Gela e i Gelesi al centro dei nostri riflettori. Grazie.